Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, ben trovati all'appuntamento con Tempo reale 26 novembre. Simona Molazzani e Andrea Polazzi non continuare a ballare, non c'era più la musica, è inutile che continui. Semmi quelle bamboline che mettono... Hai visto? Cosa abbiamo un on air? Ho visto. Hai notato questa novità? L'hanno messo però solo rivolto verso di te perché... Sì esatto, perché devo sapere quando sono in onda e non posso più ballare. Buongiorno Andrea Polazzi, buon martedì. Buongiorno. Facciate quei bambuccini che metti sulle macchine con le hawaiiane oppure come Elvis che dondolano così. Esatto, poi si parli anche la regina Elisabetta. Mamma mia. Quante alternative mi dai. Esatto. Pace all'anima sua e adesso noi invece iniziamo... della regina Elisabetta. Allora, noi adesso iniziamo perché questa mattina siamo un poco più brevi. Questa mattina tra l'altro un palinsesto leggermente modificato perché subito dopo di noi non ci sarà, come di consueto, Stefano Rossini. Speriamo torni il prima possibile a tenerci compagnia in modo particolare per il suo Benvenuto Ivan Drago di domani per cui subito dopo partirà il programma più atteso del giorno che è Faccio Cose Vedo Gente, tanta musica, tante notizie e soprattutto... Ma atteso da chi? Due bei conduttori, belli e bravi, che sono Max Albenici e Matteo Monaretto. Hai visto che switch che ha fatto Matteo Monaretto? Sì, ho visto, molto elegante questa mattina. Questa mattina d'età l'ha portato a una... ieri era ancora così molto giovanile. Non so se deve andare dal notaio questa mattina o comunque da qualche... Cioè, se è anche pettinato, se è anche pettinato, si è fatto la riga. Hai notato, si è fatto la riga. Deve rogitare e acquista questa struttura. Ma mi sembra una bella idea. E ci licenzia tutti. Mi sembra anche quella una possibile idea. Allora, noi da subito diamo i nostri contatti perché siamo qui ad aspettare i vostri messaggi, i vostri saluti, come sempre, che sono graditissimi, ma anche le vostre segnalazioni, i vostri messaggi su temi vari. 337-511-336, facile, questo numero forse lo diciamo un po' troppo velocemente per gli amici che ci scoprono. Ogni tanto c'è qualcuno che dice, ma non vi avevo mai visto. E non vi vedrò più. Non volevo aggiungere quello che dicevano successivamente. Quindi 337-511-336. Poi, chiaramente, per coloro che utilizzano più i social, siamo anche sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Così. Io ho detto tutto quello che dicevo. E faccio anche un paio di saluti, anzi tre. Perché saluto Sabrina, Walter e Irene, proverbiale, con il suo caffè e brioche. A questo punto apriamo con la cronaca. E parliamo di questo ladro seriale di Miramare che è stato arrestato dalla polizia. Erano stati presi di mira ristoratori ed esercenti che a questo punto tirano il cosiddetto sospiro di sollievo. Sentiamo i dettagli. Era sottoposto all'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Cesena, ma nel frattempo avrebbe messo a segno una quindicina di furti in varie attività a Miramare. Sono state le volanti della questura di Rimini a catturare il ladro seriale, un 45enne italiano già nota alle forze dell'ordine, diventato un vero e proprio incubo per gli esercenti della frazione di Rimini Sud. L'uomo che ha preso di mira ristoranti, bar e residence, in rapida sequenza, prima effettuava un sopralluogo alla luce del sole, poi entrava in azione nel cuore della notte. Una volta scassinato l'ingresso dell'attività individuata, arraffava quello che trovava, spiccioli, cibo o oggetti di valore. I filmati dei furti sono stati decisivi per permettere alla polizia di Stato di risalire al 45enne, che nel frattempo si era ricavato un giaciglio di fortuna in uno stabile abbandonato della zona, nel quale era solito rifugiarsi dopo i colpi. La notizia dell'arresto del ladro seriale è stata accolta con sollievo dai commercianti e dai ristoratori di Miramare, che da anni lamentano un costante degrado dell'intera area. E questo, una vicenda andata a buon fine. Tra l'altro leggevo, a proposito di furti, che un'assessora riccionese, se non sbaglio... Una consigliera, forse non so se sia stata anche assessore, credo di no, credo che magari l'andava a recuperare questa notizia. Sì, comunque un esponente del Consiglio Comunale di Riccione è stata vittima anche lei di un colpo da parte di alcuni ladri che non sono riusciti a portare via molto dal suo appartamento, ma insomma oggi ai quotidiani racconta che non è stata sicuramente una bella esperienza. No, infatti, guarda, sia il Corriere che il Carlino ricordano questa notizia, lei appunto dice ladri in casa della consigliera Talaccia, l'anno di fortima che brutta esperienza hanno staccato le sirene del sistema d'allarme, quindi diciamo che erano anche abbastanza preparati e non erano, insomma, di quei ladruncoli che arrivano e prendono quello che trovano, che spesso si muovono d'estate, sia interne che esterne, le hanno immerse in acqua per neutralizzarle, quindi insomma anche furbi, furbi e la segnalazione alla centrale operativa è arrivata lo stesso, quindi probabilmente alla fine hanno cercato di disinnescare questi sistemi, ma non ce l'hanno fatto meglio, probabilmente non ce l'hanno fatta come avrebbero voluto e quindi lei dice occorre più sicurezza, evidentemente è stata una brutta esperienza, siamo molto rammaricati insomma per quello che è successo, racconta la Talaccia, non hanno rubato nulla di valore, non hanno danneggiato ricordi personali o oggetti preziosi, che già è una cosa importante, però l'effrazione, cioè che porta qualcuno nelle nostre abitazioni, al di là di quello che portano via, che poi chiaramente anche l'aspetto... È una violazione che uno sente, tra le tue cose e gli sconosciuti. Quando uno ti viene a trovare sei tu a decidere insomma anche come accoglierlo e quindi insomma sono situazioni veramente anche difficili, quindi anche probabilmente il suo racconto è probabilmente, anche per segnalare questo tema della sicurezza che è un po' in tutti i territori, in questo caso era coreano, ma insomma dove andiamo potremmo raccontare cose molto simili. Adesso invece torniamo su un caso molto triste, diciamo così, noi l'avevamo seguito a suo tempo però continua, perché i genitori del neonato morto dopo un parto in casa non si arrendono e in attesa della decisione sull'opposizione dell'archiviazione delle due ostetriche indagate lanciano un appello al giudice, perché ricordiamo che insomma questa mamma era stata aiutata nel parto da queste due ostetriche e insomma sembra che la situazione fosse un po' andata al di là della fisiologica naturalezza di un parto, per millenni le donne hanno partorito in casa, però lì c'era qualche cosa che non stava andando e a detta dei due genitori, che chiaramente sono molto addolorati da questa perdita, almeno vorrebbero che queste due ostetriche non tornassero a lavorare così da evitare altri casi di questo tipo. Ma sentiamo i dettagli sempre con Lamberto Abbati. Chiediamo al giudice di non archiviare il caso sulla morte di nostro figlio affinché le due ostetriche indagate non continuino a lavorare in questo modo. È l'appello lanciato dai genitori di Alessandro, il bimbo venuto alla luce morta all'ospedale infermi di Rimini il 5 novembre 2022 dopo un travagliato parte in casa che ha visto due ostetriche di 46-28 anni, professioniste private specializzate nel far nascere i bambini in casa, indagate per omicidio colposo. Nei loro confronti la procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione sulla base di una corposa perizia che ha accertato la mancanza del nesso di causalità tra la condotta delle due professioniste e il decesso del neonato, pur evidenziando alcuni errori professionali. Errori che secondo i genitori di Alessandro, Federica Semprini-Pironi, 34 anni, e Marco Pirini, 41, hanno influito in maniera decisiva sulla morte del figlio. Restiamo convinti che se avessero agito diversamente, Alessandro sarebbe qui con noi, dice la coppia, che non intende arrendersi. Le due ostetriche hanno violato pesantemente le linee guida. Quando mio marito insisteva per andare in ospedale, loro continuavano a ripetermi che non c'era bisogno, che ero io che non ero pronta a far nascere Alessandro. Erano più preoccupate a postare le foto del mio parto travagliato sui social per farsi pubblicità, ci racconta la 34enne, che aggiunge, mi dissero cosa diranno le ostetriche ospedaliere di noi se partorisci in ospedale. Per l'avvocato della coppia, Piero Venturi, è mancata la diagnosi di prolungamento patologico della prima e della seconda fase del parto, oltre al trasferimento in ospedale per la somministrazione di ossitocina. Non solo perché le due ostetriche avrebbero dovuto somministrare una terapia antibiotica dopo 18 ore dalla rottura delle acque. Infine, sostiene il legale, avrebbero dovuto chiamare il 118 per il trasferimento della paziente in ospedale. L'ultima parola ora aspetta al group di Rimini, Vinicio Cantarini, ed è a lui che Marco e Federica si rivolgono. Alessandro, purtroppo, non ce lo restituirà, mai nessuno, dicono, ma vogliamo almeno che questa tragedia non sia stata vana. È una tragedia, una tragedia grande che colpisce una famiglia. Commentare è sempre difficile. No, infatti, anche perché sono tante le famiglie, le mamme che decidono di partorire in casa, che è anche una cosa molto bella. So anche bene che vengono messi tutta una serie di elementi di sicurezza, perché questo possa avvenire nel modo più naturale e bello possibile, perché se ci sono dei problemi deve essere allertata, insomma, immediatamente la presenza di un'ambulanza nel giro di pochissimi chilometri. chissà, chissà che cosa non è andato, anche perché prima dicevamo le donne hanno partorito migliaia di anni in casa, ma quanti bimbi non sono nati proprio perché ci sono state delle complicazioni da parto, insomma, la storia ne è piena di questa. Completiamo un po' la nostra pagina della cronaca con un altro paio di notizie, una la vado a leggere sul nostro sito, abbiamo anche delle fotografie che poi possiamo far vedere mentre leggiamo la notizia che riguarda una dimenticanza, ma una dimenticanza che poteva essere... E che rischiava di essere... Esatto, molto pericolosa. Cosa è successo ieri attorno alle 13.30? Cosa si fa attorno alle 13.30? Si mangia. Si mangia. In questo caso, in realtà, si stava preparando la cena, il pranzo, perché c'è stato questo incendio che è scoppiato nella cucina di un appartamento in via Francesco Rossi a San Giuliano. Una signora invalida che vive nell'appartamento in quel momento non era in casa. Era invece presente la sua badante. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'aria, anche il 118 che ha preso in carico l'abbadante per il fumo respirato. Da chiarire le cause del rogo. Insomma, che cosa sia successo? Ma è probabile che la signora abbia dimenticato una padella, una pentola sul fuoco e da lì, insomma, è accaduto quello che sappiamo. Fortunatamente, nulla di grave, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza e l'appartamento e soprattutto anche la signora immagino quando la proprietaria di casa sia tornata. Ma questo noi non è che vedremo poi come andranno avanti i rapporti tra la signora e la sua badante. Ma questo è un altro tema che non ci riguarda da vicino. Invece, ieri mattina, torno alle 11, che cosa è successo? È successo che durante i lavori sulla pista ciclabile lungo la provinciale trasversale Marecchia, la provinciale 49, subito dopo il ponte che porta verso Sant'Arcangelo è stata danneggiata da una benna, una condotta del gas di media pressione. Adrigas è intervenuta per arginare la dispersione con polizia locale, vigili del fuoco. Per questione di sicurezza è stato deciso di bloccare temporaneamente il traffico sulla strada che è stato poi riaperto circa un'ora dopo, erano le 11.45. Nel primo pomeriggio poi è stata anche riaperta la fornitura di sette utenze e tutte abitazioni civili che erano state bloccate per perfezionare l'intervento. E questo anche sono un po' di problemi. Capita che quando ci sono questi lavori ci sia una tubatura lì e che sia del gas che sia della luce o che sia della fibra o quel che è capita spesso. E poi le nostre giornate diciamo che sono un pochino più complicate però insomma fortunatamente è andata bene d'altra parte era necessario anche riuscire ad intervenire in tempi rapidi proprio per evitare il peggio. Adesso Andrea vorrei portarti un attimo su un articolo prima vorrei portarti a salutare io saluto Rosanna che ci manda la sua solita foto del mattino in questo caso niente albe ma una frase bisogna sempre puntare la luna mal che vada si è comunque arrivati in mezzo alle stelle. È bella questa bella questa frase allora invece articolo questa mattina del resto del Carlino perché so che addietro anche noi ci eravamo occupati di questa vicenda poi come tutte le vicende quando rimangono un po' latenti non vuol dire che non sta succedendo niente in realtà non sta succedendo niente di nuovo però forse qualche elemento lo possiamo dare di che cosa parliamo? Parliamo del teatro novelli di Rimini sì teatro novelli di Rimini che è una questione un po' politica più che altro insomma sappiamo bene che il teatro novelli è stato a servizio della cultura della città di Rimini per tanto tempo poi è arrivato tra l'altro se ben ricordo e se ben ho letto il teatro novelli come lo conosciamo adesso è stato inaugurato perché prima era da un'altra parte in legno nel 1800 poi nel 1925 è stata inaugurata il teatro novelli nell'attuale posto e con l'attuale conformazione salvo poi interventi avvenuti in corso d'opera quindi il prossimo anno compirebbe un secolo di vita li porta male però non li porta bene infatti è proprio così diciamo che sul futuro e così possiamo far vedere anche la pagina del resto del carlino Matteo il futuro del teatro novelli è assolutamente incerto perché? perché c'è un problema di ristrutturazione ristrutturare il novelli scrive questa mattina del quotidiano costerebbe 10 milioni che non sono proprio spicci e ci sono i dubbi della maggioranza se farla quest'operazione oppure no anche perché ricordiamo che negli ultimi anni il teatro novelli praticamente è stato chiuso diciamo che nel 2018 quando hanno aperto il Galli è stato di fatto chiuso è stato utilizzato credo per un annetto un paio d'anni per qualche altro evento alternativo insomma delle piccole convention piccole manifestazioni dopodiché si è deciso di sbarrare l'entrata non so se questa decisione abbia comportato anche il peggioramento della situazione dello stabile qui penso proprio sono problemi strutturali un pochino più datati è vero però è anche vero che se fino al 2018 con una manutenzione più continua era rimasto agibile evidentemente se dal 2018 al 2025 però probabilmente sai magari tamponi 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 alla fine devi fare degli interventi più strutturali 10 milioni di euro sono tanti 10 milioni di euro sono tanti c'è anche da dire che poi in questo momento leggevo l'altro giorno c'è proprio una questione aperta relativa alla gestione dei teatri perché si parla anche della possibilità di creare una fondazione per la gestione del teatro Galli perché sappiamo che come spesso accade è bello avere questi contenitori poi bisogna riempirli Rimini comunque evidentemente ha un bacino d'utenza ma non tale da poter riempire più teatri e questo apre una seria discussione sul futuro tenendo conto che poi l'amministrazione ha anche delle intenzioni sull'ex cinema storia che dovrebbe diventare un qualcosa di simile a un teatro per altri tipi di attività però comunque togli sempre spazio al resto guarda non si dice nulla di nuovo salvo che di questo tema si tornerà a parlare in consiglio comunale per cui magari a fine settimana venerdì potremmo darvi qualche indicazione in più perché poi queste che sono realtà stabili però ne fanno una questione politica dice semplicemente questo Giovesti se ne discuterà di nuovo in consiglio comunale per effetto di un ordine del giorno presentato dal gruppo dell'ex vice sindaca Gloria Lisi allora il Carlino giustamente ricorda fa anche un po' la cronostoria ricorda come nel 2009 visto che appunto il teatro Novelli aveva già questi problemi strutturali l'allora amministrazione guidata da Alberto Ravaioli ventilò l'ipotesi di abbatterlo tuoni e fulmini si aprì una questione politica molto significativa una vera e propria rivolta popolare anche quindi non solo da parte della politica ma anche dei residenti immagino riminesi e quindi si fermò tutto chissà io ricordo alla vigilia dell'apertura del teatro Galli anche l'allora assessore e attuale direttore artistico del Galli Piscaglia non so se è più direttore artistico però sì lui è stato assessore non so quest'ultimo ruolo però può essere sì sì e aveva detto che insomma assolutamente il teatro Novelli non andava toccato non andava toccato perché adesso ci sono le ipotesi di buttarlo giù farci un parcheggio multipiano ma a molti forse non dispiacerebbe avere un parcheggio multipiano secondo me il problema sono questi 10 milioni di euro che potrebbero fare la differenza nelle scelte anche perché poi lasciarlo lì chiuso sbarrato nella speranza che qualcuno lo possa riqualificare un giorno e che magari ci siano i soldi per poterlo fare non lo so perché comunque stavo parlando di una struttura che inevitabilmente ha bisogno di essere quindi così non lo usi però lo lasci lì però non hai i soldi per migliorarne la qualità strutturale vabbè comunque insomma mi piaceva questo articolo condividolo anche con chi con chi ci ascolta a casa a questo punto andiamo invece a parlare o meglio torniamo a parlare della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ieri era appunto la giornata anche se gli eventi poi si sono spalmati su più giorni e altri sono intesi nelle prossime giornate nella mattinata di ieri però CNA Rimini come tante altre realtà in zona anche alcuni comuni e quant'altra ha inaugurato una panchina rossa nel giardino adiacente alla sede provinciale dell'associazione in piazza Letosi a Rimini sentiamo la panchina rossa è ormai un simbolo dell'impegno condiviso nella lotta contro la violenza sulle donne e ogni forma di stalking al di là del gesto simbolico si tratta anche di un'opportunità per riflettere quotidianamente su questa emergenza sociale che non accenna a diminuire nel caso della panchina inaugurata oggi nel giardino della sede dell'associazione di artigiani e imprenditori CNA in piazza Letosi a Rimini c'è un messaggio in più che spicca sul rosso della vernice non sei sola e subito dopo il numero verde antiviolenza il 1522 alla cerimonia hanno partecipato autorità e rappresentanti delle istituzioni delle forze dell'ordine e delle associazioni rompe il silenzio e chiama chiama con le dirigenti e tutte le dipendenti della sede che sono l'ottanta per cento dei dipendenti di CNA Rimini è importante è importante anche con questi piccoli segnali con questi simboli ribadire il no alla violenza contro le donne bisogna farle un dovere di tutti perché i reati non solo i femminicidi ma anche le violenze i maltrattamenti cessino cessino perché in un mondo civile ciò non dovrebbe cadere il gesto simbolico che è stato fatto questa mattina attraverso la colorazione di questa panchina rossa in un quartiere dove passano tante persone donne e uomini ma soprattutto ragazze e ragazzi perché ci teniamo soprattutto in questo periodo veramente ad intercettare i giovani e far capire che la violenza ha tantissime sfaccettature anche quelle che a volte facciamo fatica ad individuare come può essere il controllo di un telefonino una gelosia troppo spiccata o semplicemente certe proibizioni di frequentare amiche o amici ecco CNA si è stretta intorno alle tante donne i tanti uomini che a Rimini si danno da fare per far passare questo importantissimo messaggio culturale abbiamo sentito anche le voci proprio dei rappresentanti di CNA Marco Polazzi che è il direttore di CNA Rimini e poi abbiamo sentito anche la voce della vice sindaca di Rimini Chiara Bellini la Germania è più vicina lo sai allora sì cominciamo a parlare di trasporti facciamoci un 5 minuti di trasmissione forse anche qualcosa in più sui trasporti parliamo di treni parliamo di autobus e parliamo di monopattini monopattini ok partiamo dai treni dal 17 aprile parte il collegamento non aereo no lo sappiamo però oggi è prevista una presentazione che è slittata di qualche giorno di un nuovo volo collegamento Tarimina un hub internazionale ma io posso andare ad Halifax quindi che problemi c'ho adesso dal 17 aprile partireà invece il collegamento giornaliero ferroviario fra Monaco di Baviera e la Riviera Romagnola gestito dalle ferrovie tedesche da quelle austriache e i treni a differenza di quanto accadeva gli anni scorsi c'erano già però oltre a fermarsi a Bologna Cesena e Rimini si fermano anche a Cattolica hanno capito che devono fermarsi anche a Riccione e a Cattolica sì non mi freghi perché l'ho letta anch'io la notizia sì ma tu l'hai letta l'hai chiusa e mi hai detto scrivila come fanno i direttori esatto non dire così perché sono sempre molto più gentile di quanto tu possa utilizzati sono di nuova generazione 532 posti con tutti anche gli optional del caso con carrozza bar collegamenti internet il primo di questi treni parte alle 9.34 da Monaco e arriva a Cesena alle 17.02 a Rimini alle 17.30 e finisce la sua corsa cattolica alle 18.16 perché non citi mai Riccione non l'hanno perché Riccione non hanno detto l'orario ah non hanno detto l'orario però vabbè dai tra Rimini tra le 17.30 e le 18.16 tra Rimini e Riccione circa quindi arriverà dal 17 aprile dal 17 aprile fino al 6 di ottobre quindi in tempo per in qualche modo servire tutta la stagione prossima poi chiaramente è un servizio pensato per fare arrivare i tedeschi di Baviera in modo particolare dalle nostre parti però perché no si può utilizzare anche al contrario anche gli austriaci anche gli austriaci sì però possiamo anche noi utilizzarli per andare in questi in questi bei luoghi se vuoi fare una trasmissione in diretta dal treno e qui i treni adesso mi parli un attimo degli autobus che cosa sta succedendo perché ieri si sono un po' alzati i toni anche rispetto ai disservizi leggo queste cose penso che avevamo fatto volevamo affrontare questo mercoledì proprio il tema dei trasporti pubblici fuori dall'aula del trasporto pubblico locale purtroppo non siamo riusciti ad organizzare questa puntata ma diciamo che ci torneremo c'è tutto un anno ci stava tutto perché proprio nella giornata di ieri è arrivato l'ennesimo intervento da parte dell'amministrazione comunale di Rimini un'amministrazione comunale che è tornata a dire per voce dell'assessorale la mobilità Roberta Frisoni che arrivano tante segnalazioni da parte di cittadini per corse saltate di servizi e quant'altro ha detto l'assessora buona la notizia che da dicembre ci saranno innesti di nuovi autisti 5 in Start Romagna oggi sui quotidiani si dice 5 però insomma è una sorta di pannicello caldo non è che risolviamo nulla con questo perché i problemi sono più strutturali che vanno appunto dalla mancanza cronica di autisti ma anche il tema dei contratti degli stipendi della modalità anche di lavoro tra l'altro qualche tempo fa l'amministrazione comunale aveva chiesto l'organizzazione di un tavolo che poi c'è stato con Agenzia Mobilità e Start Romagna perché diciamo che di fatto sia Agenzia Mobilità che Start Romagna sono realtà partecipate dal lente pubblico io cercavo magari le percentuali le sbaglio ma il comune di Rimini tramite Rimini Holding detiene credo il 22% di Start Romagna così come gli altri comuni quindi di fatto Start Romagna è quella che esegue il servizio che viene però deciso da Agenzia Mobilità e dai comuni e quindi diciamo che c'è tutto un sistema da mettere in funzione e da oliare probabilmente ci sarà un nuovo incontro questa settimana di questo tavolo dove il comune si aspetta di ricevere delle risposte dalle priorità che ha sollecitato nel primo incontro vedremo se queste risposte arriveranno io temo che sarà difficile in un mese e mezzo risolvere una situazione che si è incancrenita in un tempo un pochino più ampio di questo vedremo però anche ieri leggevo una settantina di corsi saltate probabilmente sono altrettante oggi tanti disservizi come spesso ci è capitato di dire probabilmente c'è anche una programmazione che potrebbe essere rivista perché se prendi atto che gli autisti sono questi la situazione è questa non ci sono le corsie preferenziali il traffico mettici dentro tutto allora a quel punto forse non ha senso anche per rispetto degli stessi utenti dire il metromare passano i 10 minuti l'11 passa ogni quarto d'ora un paio di giorni fa che proprio c'è relato in redazione sapendo che l'autobus passa ogni 20 minuti proprio così ci sono e sono certi infatti una testimonianza di una persona che ha un abbonamento che proprio per lavoro ha deciso di spostarsi con i mezzi pubblici in particolare con il metromare nella tratta Rimini e Riccione e proprio insomma capita praticamente tutti i giorni che tu hai gli orari in cui normalmente passa il mezzo e quindi probabilmente ti organizzi anche per arrivare in ufficio o sul posto di lavoro con una determinata tempistica poi arrivi quel mezzo non arriva ma non arriva neanche quello successivo e quindi alla fine spesso come ha capitato a questa persona ci ha raccontato alla fine ho deciso di andare a prendere un treno perché non si riusciva ad avere certezze e contezza di quando questo mezzo del metromare sarebbe arrivato e a dirlo una persona che ha deciso di utilizzare proprio anche come scelta probabilmente anche ecologica i mezzi pubblici e si è fatto un abbonamento quindi non è che ti rimane il bigliettino in mano e dici vabbè lo uso la prossima volta perché oggi non è passato è un problema grande è il solito cane che si morde la coda perché se da un lato tu chiedi alle persone di scommettere tra virgolette sul trasporto pubblico per questioni ecologiche per questioni di traffico per tutto quello che ci sta dietro e va benissimo però poi non si è in grado le colpe noi non sappiamo di chi sono se ci sono dove vanno ricercate e anche per questo sarebbe stato interessante approfondire il tema però se poi non si è in grado di garantire che il servizio dia quelle risposte è ovvio che magari chi ha fatto l'abbonamento quest'anno e poi 150 giorni su 300 deve prendere un altro mezzo forse l'anno prossimo ci pensa due volte fa l'abbonamento al treno ci sta quindi la riflessione di Roberta Frisoni proprio in tema di mobilità e soprattutto di trasporto pubblico speriamo che anche queste dichiarazioni fatte poi a mezzo stampa quindi anche una posizione politica siano portate anche in questi tavoli in cui vengono prese delle decisioni più funzionali alla gestione del servizio treni autobus e adesso parliamo di monopattini non solo perché sappiamo bene ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi elegge il nuovo codice della strada però c'è la pubblicazione in grado ufficiale è necessario aspettare i decreti attuativi su determinati temi vedi monopattini il governo dovrà in qualche modo deliberare per tutti i dettagli e quindi insomma per alcuni aspetti la tempistica si spalma altri invece potrebbero entrare subito in vigore infatti ad esempio l'inasprimento anche delle sanzioni dei punti insomma anche in determinate chi ne vuole sapere di più domani alle 18 ne parliamo in particolare ti occupi di cosa decide di tutto prendi in esame tutto quanto bravo ci sarà con noi un ispettore della polizia locale di Rimini avremo anche il referente riminese dello SNAC il sindacato nazionale degli assicuratori e avremo un'intervista che realizzeremo oggi con il dottor Biserni dell'ASAPS che è l'associazione che si occupa delle vittime della strada e che è già intervenuta su questo nuovo codice stiamo cercando di contattare proprio le aziende che oggi sono intervenute sui quotidiani allora in particolare sul Corriere questa mattina c'è un'intervista a Michele Francione Michele Francione è il direttore operativo di Bit Mobility che è una delle due società che gestisce a Rimini il servizio di monopattini e bice elettriche allora non è che ci voglia un genio a capire che questo nuovo codice della strada soprattutto non dico per chi ha proprietà di un monopattino che immagino non lo butterà via cercherà di adeguarsi alle regole perché comunque benché basso l'investimento insomma stiamo parlando di un'automobile però ci ha investito e quindi si adeguerà ma coloro che gestiscono queste aziende quindi hanno centinaia migliaia di monopattine perché spesso gestiscono il servizio in più città come la vedono e lui soprattutto sul casco dice chi mai lo porterà ci faranno chiudere un provvedimento ideologico sarà inevitabile il calo della clientela c'è anche la dichiarazione di conflavoro che dice preoccupati per l'impatto sui turisti corriamo al riparo con bici e scooter elettrici perché evidentemente a quel punto se i monopattini vanno un po' nel dimenticatoio soprattutto di chi lo utilizza per muoversi da un posto all'altro nelle nostre città c'è chi i congressisti penso ma anche i turisti in estate lo utilizzano molto evidentemente bisognerà cambiare mezzo sempre che non mettano anche l'utilizzo del casco sulla bici conflavoro interviene anche sulle pagine del resto del carlino chiamando all'appello gli albergatori dicendo possiamo cercare di fornire un servizio come strutture ricettive ai clienti è così cioè cercare di andare di non lasciare esatto perché sai dove torna monopattino e qui mi riaggancio anche al messaggio che ci arriva da Giorgio che dice girando in bici vedo monopattini del comune lasciati in ogni dove che è quello il problema e come vengono lasciati talvolta ma al di là di questo che è un problema che c'è da quando ci sono i monopattini in affitto perché ogni anno è vero si dice giro di vite si controlli più stretti su come vengono lasciati però ognuno di noi se li trova anche davanti al cancello di casa perché diciamo che questa però sta nella mancanza di educazione di alcuni che affittano i monopattini e poi li lascio dove mi pare purtroppo è così ma tu in qualche modo sulle strade sei rimasto io sono rimasto sulle strade con un servizio che ti ha riportato al cervellone ho fatto anche questo dal direttore ma io eseguo gli ordini come Garibaldi Garibaldi eseguo gli ordini ma tu obbedisco io obbedisco si si obbedisci obbedisci bravo compie un anno infatti nella centrale radiooperativa della polizia locale di Rimini dal suo primo bilancio emergono numeri significativi per il monitoraggio e la sicurezza del territorio ci guardano anche i film in tutti quegli schemi volendo potremmo chiedere a qualcuno che potrebbe chiedere a qualcun altro perché noi sai per il tema della prossimità siamo molto vicini a questo cervellone si si gli occhi della nuova centrale radiooperativa della polizia locale di Rimini si sono aperti il 25 novembre dello scorso anno con il suo video wall fatto da 8 pannelli led a 55 pollici in 12 mesi sono state oltre 34.000 le chiamate telefoniche al numero di emergenza allo 0541 22666 per un totale di 1037 ore di conversazione gli interventi gestiti 25.624 con picchi nel fine settimana le 325 telecamere di contesto hanno registrato oltre 2,8 milioni di ore di video aiutando i vigili urbani ad intervenire rapidamente ma anche facilitando le analisi post evento 159 sono state infatti le esportazioni di filmati per attività di polizia ci sono poi i 12 varchi di lettura targhe che hanno monitorato in un anno più di 28 milioni di transiti le immagini vengono cancellate comunque automaticamente dopo 7 giorni la centrale radiooperativa ha coordinato anche 4.363 operazioni di rimozione di veicoli e contribuito al rilevamento di quasi 1300 incidenti stradali fondamentale anche la collaborazione con l'azienda sanitaria per l'esecuzione di 203 trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori a rendere la struttura sempre connessa una rete a doppio collegamento in fibra ottica supportata da un sistema satellitare e da sim mobili che consentono il passaggio automatico da un canale all'altro tradotto un sistema a prova di guasti un punto nevralgico per la sicurezza dei cittadini la definisce l'assessore alla polizia locale Iuri Magrini rimarcando come l'investimento in tecnologie non solo abbia aumentato l'efficienza del servizio ma anche migliorato la capacità di risposta alle emergenze quanti schermi hai visto quanti schermi? bello li hai visti perché eri andata tu si ero andata io tra l'altro mi facevano vedere come la potenza di queste telecamere noi qui vedevamo chiaramente non dei dettagli ma delle stadi intere degli incroci interi ma loro possono andare proprio a vedere come sei vestito se stai chissà quante volte hanno filmato il tuo motorino se stai mangiando un chewing gum perché effettivamente tu hai tirato fuori dentro un argomento che non c'entra nulla allora attenzione perché ci sono le telecamere apposta che tengono ce n'è una solo per te che poi si spegne quando arrivi al confine con la vicione perché dopo lì diventa competenza di un'altra amministrazione ma lì non può entreranno gli altri in gioco allora un po' di polemica guarda sì e ti devo dire non l'avevo vista ci ha chiamato una signora e tu non hai raccolto la sua ha detto le ho dato il nostro numero il 337 591336 speriamo che la signora sia in ascolta e glielo riduciamo le foto gli ho detto guardi se ce le manda proviamo a documentarci a capire e c'è detto appunto che passando davanti alla sede della provincia di Rimini in via Dario Campana c'erano queste gru che stavano posizionando lei non aveva ben capito se sulla sede provinciale o dove questa antenna confermo sulla sede provinciale nulla sappiamo nessuno ci ha detto nulla in realtà poi ho letto sui quotidiani che questa antenna 5G sarà posizionata proprio sull'edificio della provincia e che in realtà aveva avuto il via libera nel 2023 mi sembra di ricordare ma anche perché sai che le amministrazioni in realtà non hanno tanto potere sulle nuove installazioni di antenne in realtà c'è il nuovo regolamento il comune di Rimini che prevede la possibilità di andare se ci sono dei problemi a cercare delle situazioni alternative però tu lì in quella zona siamo in via Dario Campana insomma per chi è di Rimini conosce bene è una zona anche molto urbanizzata e quindi non so se ci siano dei luoghi che siano più distanti da case quindi immagino che forse la scelta dell'edificio pubblico sia anche legata a questo non lo so comunque come diceva Andrea anche per le modalità di propagazione del 5G solitamente vengono ricercati gli edifici più alti della zona esatto comunque lo diceva Andrea era stato approvato a questa installazione già nel 2023 e addirittura quindi prima che entrasse in vigore il nuovo regolamento poi può essere anche giustamente retroattivo il regolamento soprattutto per le antenne che non sono state ancora posizionate quindi speriamo che la signora poi ci ascolti e ci possa mandare questa segnalazione anche con le fotografie diciamo che questa mattina già potete trovare qualche notizia in merito sulle pagine del resto del Carlino apriamo una bella pagina ecclesiale apriamo una pagina dedicata a un paio di servizi d'altro di alcuni avevamo già già parlato da dove vuoi partire? allora io partirei dai giovani parti dai giovani parto dai giovani perché domenica siamo giovani esatto domenica si è svolta in una doppia posizione cioè piazza tre martiri poi la basilica cattedrale la giornata mondiale dei giovani bisogna avere insomma tra i 16 e i 30 anni Andrea quindi purtroppo per poco non ci siamo anche se li sono i 30 più 16 non ci sono comunque non ci siamo comunque l'idea era appunto di fare con i ragazzi un momento di condivisione sapete che la giornata mondiale dei giovani c'è a livello mondiale un anno ogni quattro però poi gli altri anni c'è la possibilità per i ragazzi di vedersi nel loro territorio nelle loro diocesi e fare questo momento insieme molto bella l'idea che hanno avuto e allora vediamo un po' che voci e immagini sono state raccolte stanchezza e speranza sono state le due parole chiave della giornata mondiale dei giovani vissuta a livello diocesano centinaia di ragazzi si sono ritrovati in piazza Tremarti di Arimine e sono stati invitati a fermarsi in alcuni corner per ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto momenti difficili ma non si è fatto sopraffare dallo sconforto abbiamo deciso di fare un po' di chiesa in uscita quindi abbiamo predisposto delle testimonianze per tutti i ragazzi dalla fascia dei 15 fino ai 30 anni in piazza Tremarti e nella piazza davanti al Duomo testimonianze che parlano dei temi di quest'anno quindi un'anzimo che si chiede di riflettere sulla speranza e la stanchezza su questi due temi che sono molto collegati fra di loro cercheremo davvero di riuscire a regalare a questi ragazzi uno sguardo nuovo sul futuro e anche uno sguardo nuovo sul presente alla luce delle testimonianze ma anche delle stanchezze che stanno vivendo ai ragazzi è stato chiesto di scrivere la stanchezza che vorrebbero abbandonare la stanchezza delle maschere io ho scritto sono stanco dell'indifferenza perché a me ne vedo molta in giro e ho voluto lasciare questo segno sono stanca delle aspettative degli altri su di me perché penso che sia una cosa che pesa molto sui ragazzi anche su di me i giovani hanno poi vissuto insieme al vescovo un momento di preghiera in basilica cattedrale con un'intenzione particolare per la pace e con uno sguardo proiettato al giubileo anno in cui papa francesco invita ad essere pellegrini di speranza il tema di questa giornata riguarda proprio come sia possibile essere oggi dare a questo mondo così un po' disperato perché disperato per la guerra disperato per tante sofferenze e divisioni e divisioni riuscire a dare un messaggio invece bello di speranza che nasce per quanto ci riguarda per noi cristiani dall'amore di Dio ecco noi speriamo che il Signore ci aiuti a superare le divisioni a superare le fatiche qualcosa che non si raggiunge immediatamente ma è sempre un è proprio un pellegrinaggio di cui a cui siamo invitati tutti bello questo momento tanti ragazzi che con i loro educatori con i loro capi sì infatti anche per il visco ma lui ci è abituato sì perché prima insomma nel tardo pomeriggio era insieme ai ragazzi in piazza Tre Martiri poi per il momento di preghiera in Basilica Cattedrale ma prima alle 16 aveva presieduto una celebrazione importante sempre in Basilica Cattedrale molto importante per la nostra diocesi perché abbiamo 53 nuovi ministri non so se abbiano il portafoglio non credo ma sono ministri della diocesi di Rimini come lettori accoliti ministri straordinari dell'eucarestia e quest'anno c'è una grande novità Andrea perché da qualche anno Papa Francesco ha aperto la possibilità alle donne di diventare accoliti sai che c'è questo cammino anche di riconoscimento all'interno della chiesa del valore femminile e quindi anche del servizio proprio delle donne e tra gli accoliti che sono stati istituiti dal vescovo c'erano anche otto donne ma è stato veramente un bellissimo momento di chiesa e noi c'eravamo con il nostro Loris hanno sentito forte la chiamata al servizio hanno intrapreso un cammino di formazione che li ha portati all'ordinazione erano 53 i nuovi ministri che in basilica cattedrale a Rimini hanno ricevuto il mandato al ministero da parte del vescovo Anselmi lettori ministri dell'eucarestia ed accoliti tra loro dopo l'apertura di Papa Francesco e per la prima volta nella diocesi anche otto donne la ricchezza è quella dei laici che accolgono la chiamata del Signore a servire nella propria nella chiesa e nella propria comunità in particolare come lettori come accoliti come ministri della comunione con l'attenzione all'eucarestia con l'attenzione alla parola di Dio e con l'attenzione ai malati e ai sofferenti in modo particolare agli anziani e ai poveri con i nuovi istituiti salgono ad oltre mille i ministri che prestano servizio in tutta la diocesi ognuno con la sua storia di vocazione e il suo carico di emozioni questo mio innamorarmi di Gesù mi ha portato ad approfondire quello che è la parola di Dio e questa cosa mi crea sempre di più l'amore che porto per Gesù siamo più vicini a Gesù e poi dopo lo dobbiamo portare ai fratelli perché sennò lui è venuto per quello noi nel momento in cui leggiamo siamo i trasmissori della parola di Dio quindi in quel momento siamo degli strumenti nelle mani del Signore abbandonarsi letteralmente nelle mani del Signore perché sembra così difficile però si vince qualsiasi tipo di emozione il motivo è proprio questo amarla la lettura soprattutto perché parola per me è un grande onore servire la messa e quindi ho deciso quando il Papa è aperto per essere istituito io subito tutto è partito quattro anni fa con un problema che è grosso in famiglia e lì mi sono avvicinata molto al Signore prima ero una cristiana un po' debole io sono molto legata all'eucaristia e poter stare vicino a Gesù a Gesù e a Eucaristia Maria ci insegna a servire nell'umiltà quindi essere a disposizione non solo dell'altare del servizio all'altare ma delle persone nella carità nell'incontro con i malati con le persone che hanno più bisogno anche nel lavoro stesso la nostra quotidianità queste erano solo alcune delle voci che il nostro Loris ha raccolto cercheremo sia della GMG che della giornata con questi nuovi 53 ministri per la nostra diocese e anche di approfondirlo un po' nella prossima puntata delle giorni della Chiesa dove parleremo di famiglia due messaggi allora intanto salutiamo Gianni Giorgio invece ci dice non ho mai capito in via Dario Campana cosa sia quella costruzione in mattoni in mezzo alla rotonda è presente come no certo che devi passare cioè c'è la possibilità di passare a destra e di tornare sulla sinistra non lo so io sinceramente anche a me manca questa lo saprà sicuramente Matteo Monaretto qui ci vogliono i riminesi in merito alla centrale operativa tutti quegli schermi dice se si può controllare tutto possono controllare i cassonetti dell'immondizio e vedere chi è che lascia tutto fuori guarda proprio ieri c'era sulle pagine di un quotidiano se non ricordo esattamente non vorrei sbagliare ma proprio una lamentela forte da parte non so questo amico da dove ci chiami ma in realtà il problema dei cassonetti è un po' per la maleducazione della gente diciamo che al di là delle zone in cui c'è il ritiro a casa praticamente il porta a porta che ormai fortunatamente nel riminese sono andata anche io dalle mie zone però ce ne sono alcune dove ancora questo sistema per un motivo o per l'altro non è stato implementato soprattutto in alcune zone non è proprio facile perché pensa nei centri storici anche la raccolta porta a porta è un problema soprattutto alle porte del centro storico parlo della zona di via Lario Campana qua a Rimini appunto si parlava proprio di via Lario Campana ma anche alcune traverse ancora ci sono i grossi bidoni e lì i problemi ci sono perché è vero che dovrebbero essere tutti con il codice quindi tu metti la tua chiavetta ci metti dentro la tua immondizia il piccolo sacchetto poi c'è la gente che o perché si dimentica il codice o perché non si porta dietro la scheda o perché praticamente passa e lascia l'immondizia lì per terra è veramente uno scempio quindi evidentemente l'unica soluzione è agire in modo altro è vero che soprattutto vicino al centro storico di Rimini hanno aperto anche queste isole ecologiche interrate che effettivamente salvo chi ce lascia il sacchetto a fianco sono migliori e proprio ieri dicevo semplicemente che ci sono tutti i residenti della zona dell'arco d'Augusto che dicono che effettivamente è un grosso problema ma non solo quello dei cassonetti non andavano poi quello interrato ancora non è partito perché poi è spiegato era c'è una centralina elettrica quindi insomma hanno dei problemi a farla attivare ma anche perché dicono i residenti gli operatori di era non passano in modo puntuale era dice non è vero però insomma se volete ieri invece restiamo in qualche modo il tema rispondiamo a Giorgio perché Matteo ha fatto delle ricerche quindi prendete comunque con le pinze queste cose perché sono ricerche ma ha fatto delle ricerche allora dovrebbe essere questa costruzione nella nella la rotatoria in via Dario Campana un pozzo di era si dice anche siccome è a parecchi anni sia collegato attraverso un passaggio sotterraneo utilizzato in tempi di guerra la piazza ma la testa bello quindi c'è un passaggio segreto sai che si dice che a Rimini ci fossero tanti passaggi dalle gallerie di Covignano quelle che portavano su che poi sono state in parte morate periodo della guerra esatto e portavano fino al centro per consentire insomma alle persone di fuggire di evitare i bombardamenti di non farsi vedere dalle truppe nemiche e probabilmente sotto di noi a parte il tunnel alieno di cui parliamo qualche tempo fa infatti sono anche tunnel un pochino più concreti che sono quelli che sono stati scavati in tempo di guerra eh beh interessante magari andiamo ad approfondire però ringraziamo Matteo per questa puntuale ricerca che è stata fatta io vorrei affidare a Matteo una trasmissione di questo tipo tipo misteri misteri che cos'è questa cosa che non so effettivamente sai quanti il nostro Giacobbo che entra nei posti con dei permessi straordinari dati solo a lui insieme al suo operatore fidato quanti di noi potrebbero avere delle domande Matteo potrebbe mettersi a cercare sicuramente tanti adesso andiamo la posta di Matteo andiamo un attimo nella mia riccione dove si ferma il treno comunque vorrei dire dove tutto si ferma dove tutti si fermano perché perché accendevano sabato le luminarie a Rimini sì ma noi dove siamo andati a fare il servizio noi il servizio per mandarlo lunedì non potevamo andare una cosa vecchia di sabato siamo andati domenica perché hanno aspettato noi per accendere i luminari no perché era il 24 Andrea sai che a Riccione è il 24 24 agosto 24 settembre Simona quando ci sei il 23 o il 24 hai detto il 24 allora accendiamo il 24 perché se no era tutto legato a questa scelta quest'anno del 24 perché la prima volta in cui sei parlato di Natale a Riccione era il 24 agosto il 24 settembre c'è stata una sorta di save day day il 24 ottobre ci sono state le presentazioni degli eventi di Natale e Capodanno il 24 novembre accensione delle luci tra l'altro volevo dire solo per giustificare insomma è tutto collegato il cavo delle luci poi attacca a casa di Simona quindi la spesa adesso se vedete le luci spente perché lei spolverando ha inciampato sul filo anzi potrei generare energia anzi lo già lo facciamo per donarla all'Enel praticamente visto che vabbè comunque andiamo a Riccione nel cuore della Perla Verde in particolare in Viale Ceccarini dove si sono accese le luminarie ma diciamo che con il fine settimana sono partite tutte le attrazioni che Riccione ha e che sicuramente fanno parlare di lei caro il mio Andrea Polazzi Le atmosfere musicali di Isabella Fabri e le coreografie dei danzatori che hanno portato in scena i quattro elementi sono stati i protagonisti dell'accensione del Natale Riccionese le luci hanno illuminato Viale Ceccarini e si è alzato il sipario su un calendario di eventi che accompagnerà la città fino all'inizio del nuovo anno tra le novità due attrazioni che già nei primi giorni hanno creato curiosità Lo stile è sempre quello noi perseguiamo fin dal primo anno tre elementi fondamentali che sono la sostenibilità la sobrietà e la tradizione è sempre un evento dico sempre di comunità e turistico perché non dimentichiamoci che la prima parte soprattutto degli eventi sono dedicati alla nostra comunità il Natale è famiglia il Natale è bambini il Natale quindi abbiamo dato risposta in questo senso poi il Natale è un prodotto turistico grazie alla nostra destinazione è diventato un prodotto turistico e la seconda parte quella dedicata ai turisti li vedrà coinvolti oltre che in allestimenti della città credo veramente piacevoli anche in tutta una serie di eventi in un palestesto ricco di concerti ed eventi anche per i nostri turisti una riccione vista dall'alto così non era mai capitata 55 metri di altezza è una delle grandi sorprese del Natale di quest'anno una ruota panoramica nel cuore della Perla Verde da cui si vede praticamente tutta la riviera e seconda grande sorpresa ci tengo a dirla perché la vediamo proprio da qui benissimo la pista più grande d'Italia della storia pista di ghiaccio che abbiamo inaugurato proprio il weekend della partenza e che ha visto già centinaia anzi migliaia di persone sfilare sul ghiaccio lungo il nostro lungomare spettacoli concerti in piazza ma anche eventi culturali con tre mostre e la rassegna dai cori al cuore nelle chiese della città una proposta che soddisfa anche i comitati d'aria e i consorzi c'è la gioia del Natale certamente tradizionale ma c'è moltissima attività culturale c'è moltissimo divertimento la mitica ruota che ha una fila già adesso che non finisce più per salirci tanta gioia tanta allegria tanta cultura e poi non è finita perché l'8 di dicembre si accenderà l'albero e sarà un momento molto importante e poi non si può spoilerare ma ci sarà una bella novità su Babbo Natale una grande soddisfazione perché quest'anno il villaggio è stato realizzato nel giro di tre settimane siamo veramente molto soddisfatti anche del livello qualitativo che è stato messo in campo credo che chi vorrà venire a Riccione troverà una bella sorpresa devo dire io sulla ruota ci sono andata per fare l'intervista all'assessore che abbiamo visto dura quattro giri la ruota quanto si paga? non lo so perché a te gratis? non è che sono entrata la solita raccomandata non mi sono potuta godere neanche il giro perché stavo facendo l'intervista però mi è parso se tu sei andata lì e hai detto se non mi fate salire vi stacco la corrente delle luci perché anche quella della ruota è collegata se stacchi restano lì quindi diciamo che però effettivamente sentivo commenti di persone che erano arrivate a Riccione proprio domenica per l'inaugurazione ma la ruota si vede dall'uscita dell'autostrada sarà un po' questa iconica quindi tu dici che la ruota è tipica di Rimini pensa quando invece ci sarà l'impianto eolico illuminato per Natale Andrea sai che cosa ricordo tanti anni fa ma veramente stiamo tornando dietro almeno di dieci anni quando si voleva a Riccione mettere la ruota panoramica la voleva mettere d'estate fai ombra dopo la gente sabronza con la ruota ci fu una rivolta proprio contro questa ruota e la ruota poi è venuta a Rimini l'hanno montata sul porto non ho visto nessuno in giro con la sagoma scura chiara della ruota delle gondoline della ruota e vabbè questa volta invece è arrivata è una altissima ruota poi c'è anche questa pista di pattinaggio lungo il lungomare quindi insomma effettivamente le attrazioni ce ne sono poi ci saranno tanti eventi però andrai a pattinare caro Andrea io non sono una grande pattinatrice quella è la cosa bella esatto però attenzione perché noi a Riccione siamo in grado chiaramente poi figura sugli allestimenti natalizi arriva qualche elemento polemico quindi se Matteo ci aiuta andiamo sulle pagine del Carlino perché sai che vengono realizzate le casette le casette che ci sono lungo e ce n'è una che all'interno ha i distributori automatici esatto non so se si prende bibite io non so pipite pizza credo anche quindi qui nel Carlino se ne parla questa mattina dice che i ragazzi ci vanno a nozze sono prezzi popolari e qualcuno subito sui social in modo particolare in particolare rappresentanti diciamo della minoranza hanno dato contro a questo tipo di scelta ma come le casette non dovrebbero essere per le offerte anche più artigianali più di qualità insomma legate sia al cibo però magari a cioccolata calda io vi leggevo un intervento del segretario delle civiche che diceva è inutile però che noi discutiamo a chi piace a chi non piace l'allestimento dell'analizia e quant'altro discutiamo e cerchiamo di capire perché non siamo tutti uniti contro l'impianto eolico e vabbè ma questo è un altro discorso che è un tema che sta tornando veramente in auge dopo la campagna tanto che oggi leggevo invece anche un intervento sui social dell'ex sindaco Daniele Imola che dice io non sono un addetto ai lavori quindi non so bene ma per quale insomma cerchiamo di capire bene perché non approfondiamo e perché perché se diventa una battaglia solo dei brattori riccionesi non è che si va da nessuna parte però io turno un attimo sulla casetta perché invece c'è Maurizio Metto che abbiamo anche sentito nell'intervista poco fa che dice è una novità che funziona quindi il presidente si difende dalle critiche apparsi in rete rilanciate dai politici del centrodestra dicendo stiamo parlando di una novità che in questi primissimi giorni è andata molto bene ed è stata apprezzata quando parliamo di distributore automatico dobbiamo considerare un'attrezzatura innovativa che prepara seduta stante la pizza con prodotti di prima qualità e di questo che stiamo parlando il robot il robot che impasta partisce e cuoce la pizza a Rizzone c'era già perché c'è in Viale e accanto anche il distributore di bibite e d'altra parte si prende una pizza poi ti bevi anche una bibita bisogna provarlo per dire come è però comunque insomma poi lui dice vicino al palazzo del turismo da un anno ha aperto un esercizio con tutti i distributori automatici una vasta gamma di alcolici a disposizione in quest'ultimo anno non ho ascoltato polemiche da chi oggi si indigna per la casetta in centro che rimarrà solo 40 giorni e vabbè ma noi di Riccione siamo così ma che Natale sarebbe senza un po' di polemica tra l'altro credo che proprio questa settimana dopo mesi ho letto anche degli appelli anche delle critiche c'è un consiglio comunale c'è un consiglio comunale immagino che tutto quello che si sono tenuti dentro in questi mesi sarà un consiglio animato come spesso capita a Riccione probabile e noi credo ve lo trasmetteremo il giorno seguente il giovedì subito molto bene penso proprio di sì allora a questo punto l'oner perché lo diciamo domani sera invece manderemo il dibattito in consiglio comunale a Rimini sul nuovo stadio che c'è stato la scorsa settimana poi giovedì c'è un consiglio comunale anche a Rimini dove tra l'altro si parlerà del novelli probabilmente andremo a pescare quella parte per la settimana successiva proprio così allora io vi saluto Andrea solo tu? io vi saluto io resto qui tu resti qui rimani on air mi piace questa nuova ma chi l'ha come? abbiamo preso il nostro Gianmarco Zannoni le ha fatte con le sue manine l'abbiamo preso con Black Friday ti ho appena detto come ha fatto con le sue manine? certo con la sua stampante 3D ma che bravo bene adesso appunto dicevamo niente io non ho lette cose Stefano tornerà oggi non si leggono cose non si leggono cose ma si fanno cose si va direttamente a vedere gente esatto giusto? buona giornata noi ci ritroviamo domani a domani Tempo reale l'informazione in diretta della provincia di Rimini